Lotta in bilico tra la vita e la morte, il 21enne padovano che attorno all'ora di pranzo di oggi sabato 19 agosto ha urtato violentemente contro un'auto mentre era a bordo della sua Kawasaki. Il grave incidente è avvenuto lungo la strada regionale 53 Costumi e nel comune di Bolzano Vicentino. Il giovane centauro residente a San Pietro in Gu non avrebbe avuto contezza dell'alto, una golf regolarmente impegnata nella manovra di svolta verso l'area di rifornimento. Finendo per infrandersi contro e sfondando il lunotto posteriore prima della rovinosa caduta a terra. Immediato l'intervento dei sanitari del SUEM che una volta prestati le teme cure lo hanno subito trasferito di urgenza al San Borto di Vicenza. Non si pronunciano meno per ora i medici della rianimazione, la prognasi rimane riservata sul posto per i rilievi di rito che dovranno fare luce sull'esatta dinamica dei fatti anche i carabinieri di Tiene oltre a quelli di Sandrico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.